Sto sorridendo perché sto vedendo i ragazzi dell'Under 23 festeggiare. La Juventus Under 23 ha appena vinto la finale di Coppa di Serie C, aggiungendosi il trofeo e vincendo la prima finale in generale della Juve. Fantastico! Tra l'altro ho scoperto solo oggi che chi vince la finale di Coppa di Serie C salta alcuni turni dei play-off. Questo progetto dell'Under 23 mi piace anche se tanti giocatori sono stati usati per fare plusvalenza e su questo non ero molto d'accordo. Però sono contenta che siano riusciti a portarsi a casa sto trofeo anche perché da inizio hanno fatto dei miglioramenti. Ci sono dei giocatori interessanti nel caso non dovessero riuscire ad essere promossi in Serie B. Io spero veramente che alcuni di questi ragazzi vengano dati in prestito da altre squadre perché sì la Serie C è competitiva ma ci sono veramente dei giocatori come Fagioli e come anche alcuni altri che meriterebbero di giocare, cioè di alzare un tantino l'asticella. Secondo me in Serie B si troverebbero bene sempre che non vengano promossi con la Juventus. Sono contenta, sono contenta per i ragazzi e congratulazioni, fra poco alzano il trofeo. È anche carino come trofeo, non l'avevo mai visto perché io non seguo tanto la Serie C, seguo qualche volta le partite del Vicenza perché lo simpatizzo però per il resto non la seguo quasi per niente. Seguo qualche partita ovviamente dell'Under 23 però non essendo mai arrivati in finale di Coppa di Serie C hanno appena sovilevato il trofeo e hanno distrutto il cartellone. Vabbè, essendo appunto una finale, non essendoci mai arrivati non sapevo sta cosa che saltassero i turni dei playoff e non sapevo neanche come fosse fatta, sinceramente. Niente, sono contenta e speriamo che si concluda in bellezza sta stagione per l'Under 23 e anche se non dovesse essere spero che alcuni di loro vengano dati o in Serie B o in Serie A o richiamati in prima squadra. Cioè, non vedo nessuno pronto per la prima squadra forse fagioli, potrebbe fare qualche partita ma comunque spero che gli venga data l'opportunità. Basta, non ho altro da aggiungere adesso mi guarderò il secondo tempo di Fiorentina-Lazio perché... o Lazio-Fiorentina vabbè, comunque mi guarderò il secondo tempo il primo non ho potuto guardarlo perché appunto stavo guardando la Juventus-Under 23 noi ci vediamo dopo, forse o comunque nei prossimi giorni ciao, un bacione, ciao